ben trovati anche per questo venerdì con una nuova puntata di wincity sport weekend siamo ospitati sempre qui nella sala sisal wincity di piazza trento 12 a catania il video vuole alle nostre spalle vi suggerisce i nostri appuntamenti settimanali ovvero alle 22 e 30 di ogni venerdì in diretta su radio studio centrale alle 22 45 sempre il venerdì sera sul canale 19 del digitale terrestre ovvero su tele one cominciamo subito con quello che l'ultima puntata dell'anno e che andrà a riguardare l'ultimo turno d'andata della serie a infatti apriamo proprio col calcio con la massima serie un turno abbastanza importante soprattutto perché napoli e juventus si giocano il titolo di campione d'inverno ma proseguiremo a parlare sempre di calcio con la serie c con i due gironi a e c come abbiamo seguito anche nella scorsa puntata e andremo anche a vedere quali sono gli impegni della coppa italia nei primi giorni del nuovo anno del 2018 con gli ultimi due quarti di finale nella seconda parte apriremo sempre con l'intervista che ogni settimana vi proponiamo un ex giocatore abbastanza amato soprattutto in sicilia non vi sveliamo chi è lo vedrete dopo ma avremo anche la possibilità di affrontare il calcio internazionale e anche il basket ed il volley la serie 1 maschile di entrambe gli sport e oltre a questo chiaramente durante la nostra puntata vi darò i suggerimenti per le vostre multiple per questo ultimo weekend dell'anno apriamo subito come dicevo con il calcio con la serie a l'ultimo turno d'andata la diciannovesima giornata nella scorsa nello scorso weekend il la juventus ha tenuto botta contro il napoli ovvero è rimasta a un punto di distacco 45 il napoli anzi 46 il napoli 45 la juventus mentre ha perso terreno l'inter andiamo a vedere il turno che si svolgerà proprio nella giornata di domani fiorentina milan partita che si giocherà alle 12 e 30 nel lancio match poi atalanta caglia di bologna udinese roma sassuolo benevento chievo verona sampdoria spal torino genoa inter lazio chiude il turno e chiude anche l'anno della serie a ellas verona juventus queste le partite in programma per quanto riguarda questo turno tra l'altro una novità per la serie a ovvero giocare durante il periodo natalizio vi si è considerato che nelle scorse annate la serie a si fermava proprio poco prima di natale invece quest'anno si è scelta una modalità molto british come si svolge in inghilterra che si gioca molto durante il periodo natalizio anche in serie a quest'anno si è scelto di fare così e ne è testimonianza anche la coppa italia che è stata protagonista nei giorni scorsi con due partite concluse sull'uno a zero lazio fiorentina ma soprattutto il derby di milano milan inter che si è si è chiuso ai supplementari con la vittoria del milan dei rossoneri uno a zero e dunque entrambe le squadre lazio e milan hanno ottenuto il pass per le semifinali della competizione ma torniamo al campionato vi dicevo abbiamo visto le partite del turno fiorentina milan è la partita che apre la giornata di domani con una fiorentina sicuramente favorita con una quota di 220 ma il milan rinfrancato dalla vittoria in coppa italia potrebbe anche trovare un risultato positivo 350 il pareggio 320 il 2 interessante anche la quota del gol a 1 68 tanto quanto quella dell'over a 1 e 85 nel pomeriggio di domani si giocherà un'altra partita soprattutto importante per quel che riguarda il torino visto che in settimana ha dovuto fare a meno di belotti infortunio ancora al ginocchio per il gallo belotti il giocatore più rappresentativo del torino torino genoa la vediamo in grafica 1 80 la quota dell'1 3 60 l'x 4 50 la quota del 2 in questo caso potremmo optare per una quota under a 1 80 oppure no goal addirittura a 1 e 89 ma sicuramente il big match della giornata interlazio l'inter che arriva addirittura da tre sconfitte consecutive due maturate in campionato contro udinese e sassuolo abbastanza sorpresa mentre quella contro il milan in coppa italia è sicuramente una sconfitta che ci poteva stare peraltro nel derby tutto può succedere 2 e 20 la vittoria dell'inter 3 e 25 della lazio over a 1 e 68 passiamo invece adesso alla serie c si giocano entrambi i giorni andiamo a vedere gli impegni queste le gare nel girone a arezzo gianna erminio cuneo piacenza monza pistoiese olbia gavorrano pro piacenza carrarese siena pisa big match e derby toscano andremo a vedere le quote nello specifico viter bese arzachena livorno prato e pontedera lucchiese si giocherà domani anche il girone c queste le gare catania casertana matera sicula leonzio monopoli fondi fine lissandria siracusa catanzaro regina altro derby in questo caso calabrese paganese cosenza rende acragas e virtus francavilla vi sceglie vi dicevo di questi due derby quello nel girone a che vede appunto protagonista siena e pisa favorito il siena con una quota di 260 siena tra l'altro nelle zone altissime della classifica così come il pisa e 260 vittoria del siena 270 invece quella del pisa quindi derby toscano molto equilibrato nel girone c invece il derby calabro catanzaro reggina 1 85 l'uno ma qui la quota dell'ander è interessante a 1 e 60 questa è la nostra scelta per con la serie c noi chiudiamo la prima parte torneremo dopo anche perché apriamo la seconda parte con un collegamento telefonico e poi avremo ancora da parlare di calcio di basket e di pallavolo sono mister mess point e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita se un coniglio attraverserà la pista e anche sul nome del prossimo erede al trono scommesse on demand da oggi sei tu che inventi le scommesse il gioco è vietato minori e può causare dipendenza patologica perché se pensi che succederà allora puoi scommetterci scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente seconda parte di wins City Sport Weekend venerdì 29 dicembre, apriamo subito con un collegamento telefonico che a me sta molto a cuore anche perché davvero ha regalato dei momenti indimenticabili soprattutto in Serie A buongiorno a Giuseppe Mascara ex giocatore di Napoli, Catania e tante altre squadre soprattutto grande protagonista in Serie A negli anni passati. Salve buongiorno a tutti. Grazie grazie alla disponibilità Peppe io subito ti chiedo, chiusa la carriera da calciatore hai intrapreso quella dell'allenatore, intanto partiamo da quelle che sono le differenze rispetto a quando stavi in campo mentre oggi che stai in panchina ecco come vivi la situazione calcio e soprattutto l'ambiente, che differenze hai trovato? Ma guarda da giocatore pensavi poco, da allenatore devi pensare tanto perché hai 20-25 ragazzi diciamo da portare avanti di farti capire tante cose, tanti meccanismi, il valore dello spogliatoio, il valore della squadra, il valore dell'ambiente, della società a cui appartieni, la società stessa, quindi sono delle maggiori responsabilità. Da calciatore giocavi, facevi il tuo, sapevi che dovevi dare il massimo perché ne valeva per la tua carriera. Dici benissimo sicuramente è un crescendo di responsabilità, ecco quando eri in campo però tu questo tuo essere fantasioso scansonato lo mettevi in mostra con dei gol strepitosi, c'è un complimento, c'è una frase che ti ricordi con più piacere dopo un gol o dopo una partita che hai impressa nella memoria? La cosa in 18 anni di cadere da professionista è la cosa che mi è rimasta più impressa, sapevo che ragazzo era, che giocatore è stato, che campione è stato, quando giochiamo qui contro il Milan venne cacacchi e termine la marietta, quindi quella è una cosa che mi ha fatto tanto piacere e mi è rimasta impressa. Sicuramente un grande campione, peraltro pallone d'oro e non capita assolutamente tutti i giorni. Peppe come sta procedendo, adesso entriamo nello specifico, la tua carriera d'allenatore, questa nuova avventura e soprattutto anche quella che è stata la formazione, insomma la crescita con le giovani del Catania? Guarda, ho avuto l'anno scorso la fortuna di allenare un gruppo veramente speciale, di ragazzi motivati, di grande capacità sia tecnica che morale, abbiamo vinto il campionato nazionale, siamo andati a fare le fasi finali, ci siamo tolti qualche soddisfazione, poi passare con i grandi sicuramente è meno complicato, io dico sempre che è meno complicato perché con i ragazzini devi stare sempre attento al tutto, anche alle piccole fumature che possono nasce, invece con i grandi è molto più semplice perché hai un confronto diretto, a volte anche personale e quindi ti rende molto le cose più semplici. Veniamo invece a quello che sta succedendo nei massimi campionati, in Serie A questa lotta Napoli 2 secondo te arriverà fino al termine e chi potrebbe spuntarla, mentre in Serie B e in Serie C chi vedi favorite tra le squadre che in questo momento comunque stanno guidando le classifiche? Per quanto riguarda la Serie A secondo me quelle 3-4 squadre Napoli, Juve, Inter e la stessa Roma, secondo me la sorpresa potrebbe essere la Lazio, se la giocheranno fino alla fine perché sono talmente equilibrate che avranno gambe per giocarsi alla fine all'ultima gara di campionato. In Serie B per me oltre a Palermo c'è il suo signore, c'è lo stesso Empoli e poi come ogni anno ci sarà la sorpresa. In Serie C io spero e me lo auguro che il Catania riesca ad andare direttamente in Serie B senza passare per i play-off perché è una squadra di primissimo, di primissimo ordine anche se secondo me qualcosina bisogna farla per levare questo rap che c'è con il Lecce. Eh sì, è anche in Serie C campionati abbastanza equilibrati, soprattutto il giro nel C. Peppe io ti ringrazio, sei stato davvero disponibile e soprattutto ti auguriamo le migliori fortune adesso con questa nuova carriera d'allenatore. Grazie, grazie a voi. Auguri di buon anno, grazie, grazie a Peppe Mascara. Dunque insomma ci ha detto un po' la sua ed è quello che abbiamo discusso in queste settimane la lotta fra Napoli e Juventus in Serie A mentre in Serie B e in Serie C la situazione è molto più equilibrata. Continuiamo a parlare di calcio, abbiamo così chiuso il capitolo dei massimi campionati, abbiamo aperto una parentesi nella prima parte che riguardava la Coppa Italia con gli impegni che ci sono stati in settimana ma la prossima settimana tra martedì e mercoledì si giocheranno altre due partite peraltro due partite di quarti di finale che diciamo dalle quali usciranno fuori appunto le altre due semifinaliste ovvero Napoli-Atalanta, Napoli favoritissimo e anche nel derby di Torino fra Juventus e Torino i bianconeri sono chiaramente favoriti, vedremo quello che succederà già la prima serie finale come vi dicevo prima e Lazio-Mila nella parte alta del tabellone. E' il momento delle multiple anche per questa settimana, multiple che apriamo con il calcio italiano, una multiple totalmente incentrata sulla Serie A, andiamo a vedere quelli che sono i consigli che ho riservato per voi per questo weekend, ultimo weekend dell'anno. vi parlavo prima del Milan che può trovare slancio dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Inter, Fiorentina-Milan si giocherà nel lunch match, vi suggerisco la quota X2 interessante a 1,67, poi l'1 della Roma 1,33, l'Under 2,5 di Benevento-Chievo-Verona, una partita fra due squadre che in realtà non segnano tantissimo almeno in questo periodo, quota 1,75, poi gol di Inter-Lazio, big match di giornata a 1,55, l'1 del Torino sebbene sarà orfano di Belotti a 1,80 e poi l'over 2,5 di Sampdoria-Spal a 1,72 per una quota totale di 20,56, quindi buona anche la quota complessiva di questa multiple. veniamo invece alla serie C, questa settimana abbiamo voluto sviluppare due multiple differenti, una sulla massima serie e una sulla terza serie perché la serie B ha già giocato ieri in terza serie, Livorno-Prato, vi suggeriamo l'over a 1,55, Catania-Casertana a 1,40, Rende-Akragas Under 2,5 a 1,60, Siena-Pisa anche qui Under 2,5 a 1,55, Viterbese-Arzachena a 1 a 1,68, Catanzaro-Reggina Under 2,5 a 1,60, l'1 del Matera contro la Sicula-Leonzio a 1,75, qui la quota è più alta, 29,31, quasi 30 di quota, quindi con 10 euro potreste vincerne 300. Questi sono i consigli che vi ho riservato per questa settimana, salutiamo intanto gli amici di Radio Studio Centrale e proseguiamo con il calcio internazionale, tanti campionati sono fermi in Spagna, in Francia e in Germania c'è la sosta natalizia mentre come vi dicevo a inizio trasmissione in Italia si sta giocando così come in Inghilterra e proprio in Inghilterra ci sarà il turno diciamo pre-capodanno, sebbene si giocherà anche l'1 gennaio in Premier League, in Premier League in questo periodo si gioca costantemente ogni tre giorni. Questi gli impegni di domani, Newcastle-Brighton, Chelsea-Stok City, Liverpool-Leicester-City, Barnumov contro Everton, Huddersfield-Town-Barley e poi Watford-Swansea, Manchester United-Southampton, Crystal Palace-Manchester City, con il Manchester City lo ribadiamo primo indiscusso in graduatoria con ben 15 punti di distacco sui cugini del Manchester United, addirittura tutte vittorie per la squadra di Guardiola è solo un pareggio, chiuderà il turno domenica la sfida alle 17.30 tra West Bromwich ed Arsenal. Non si gioca solo in Inghilterra per quanto riguarda la Gran Bretagna ovvero i campionati d'oltremanica, ma questa settimana andiamo ad attenzionare quello che succede in Scozia la Scottish Premier League con gli impegni che si giocheranno nella giornata di domani e spicca fra tutte il derby di Glasgow tra Celtic e Rangers che aprirà il turno alle 13.00 e poi Patrick Tistol contro Ross County, Aberdeen contro gli Hertz, Ibernian Kilmarnock, Moterville Hamilton e San Johnston contro Dundee. Questi sono gli impegni del campionato scozzese che attenzioniamo per la prima volta durante questo nostro contenitore di informazione sportiva e scommesse. Vi dicevo appunto del derby di Glasgow tra Celtic e Rangers, favorito ampiamente il Celtic che vince il campionato da diversi anni in maniera indiscussa, 1.31 per la quota 1 e poi 4.85 per l'X, il 2 addirittura 9, Rangers che sono tornati in massima serie quest'anno. Interessante anche la quota goal no goal, vi suggeriamo di poter puntare qualcosa sul goal, 1.94. Per quanto riguarda invece quello che potrebbe essere il consiglio, anzi quello che è il consiglio sul calcio internazionale, la multipla che ogni settimana riserviamo ai massimi campionati europei, questo è quello che vi suggerisco. Il 2 dell'Arsenal contro il West Bromwich quotata 1.75 e poi goal tra Crystal Palace e Manchester City, ogni tanto la squadra di Guardiola in difesa pecca un po' però è una macchina da goal. Poi l'over tra Chelsea e Stoke City a 1.46, l'X2 del Marley in casa dell'Addersfield a 1.60, Manchester United-Southampton 1.34 e poi un'altra partita dove potrebbe uscire il goal, ovvero che segnano entrambe le squadre tra Liverpool e Leicester City, quota 1.71 per una quota totale di 18.69. Vi auguriamo in bocca al lupo e speriamo che gli ultimi suggerimenti dell'anno possano essere fortunati per tutti voi con la possibilità di ritrovare tutti gli altri campionati sia in Germania sia in Francia ma anche in Olanda e in Spagna a partire dal weekend dell'Epifania che discuteremo e vi presenteremo nella prossima puntata. Questi sono i consigli per quanto riguarda il calcio internazionale. Ma veniamo invece adesso agli altri sport, a quelli che sono i sport più seguiti in Italia, a parte il calcio, ovvero il basket e il volley, ci concentriamo sulla Serie 1 maschile in entrambi i campionati. Oggi per quel che riguarda il campionato di basket si è giocato un turno tra il 26 e il 27 dicembre, ovvero durante questa settimana e la classifica ha visto qualche novità, soprattutto il distacco che è diminuito della capolista Brescia, la Germani Brescia che ha 20 punti che ha perso proprio in settimana in casa dell'Armani Milano che è secondo in classifica contro Avellino e poi a seguire in graduatoria Torino con 16 punti insieme a Venezia, mentre il Banco di Sardegna Sassari 14 punti e poi seguono Cantù, Trento e Bologna 12, Cremona e Capodorlando 10 con l'unica squadra siciliana che comunque sta cercando di mantenere una posizione media in classifica, a seguire Reggio Emilia, Varese e Pistoia con 8 punti, Pesaro 6, chiude sempre Brindisi con 4 punti. Questo per quel che riguarda il massimo campionato di pallacanestro, ma abbiamo da presentarvi anche quello che è il turno che si giocherà domani nel campionato di volley, queste le sfide le andiamo a vedere subito la prima giornata di ritorno, vi andiamo a presentare il programma, Milano contro Trentino, Castellana Grotte Modena, Padova Perugia, Sora contro Monza, Lube Civitanova contro Vibo Valencia, Piacenza Ravenna e poi chiude il turno, Verona contro Latina, queste le sfide della prima di ritorno nel campionato di volley. Andiamo a vedere anche la classifica, interessante, Perugia in testa ha superato in classifica Civitanova, 33 per Perugia, 32 per la Lube Civitanova e poi Modena 30, Verona 26, Padova 23, Diatec Trentino 22, Milano 21, 20 punti per Piacenza e Ravenna, 12 invece per Monza e Latina, nelle zone basse della classifica, 9 punti per Vibo Valencia, 7 Castellana Grotte, 6 Sora. Con la classifica della Serie 1 di pallavolo maschile noi chiudiamo quest'altra puntata di Wind City Sport Weekend, ovviamente l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana, noi ci congediamo, vi auguriamo un felice anno nuovo, ci ritroveremo nel 2018 con il primo appuntamento dell'anno. Da Francesco Ricca è tutto, alla prossima settimana. Grazie a tutti.